Bando del MIMS che stanzia 313 milioni per i progetti di rifacimento o ammodernamento delle reti idriche. Non è un mistero che le nostre reti siano collaborato, benvengano quindi investimenti mirati e decisi. Diminuire la dispersione idrica significa aumentare la qualità del servizio e ridurre i costi anche per il cittadino, commenta il parlamentare siciliano Paolo Ficara del Movimento 5 Stelle. I comuni delle regioni interessate tramite il gestore degli ambiti territoriali hanno 45 giorni di tempo per presentare progetti validi e conformi alle nuove indicazioni europee di sostenibilità. La situazione in Sicilia è particolarmente seria e lo testimoniano anche i dati contenuti nel recente rapporto ecosistema urbano di Lega Ambiente. Le reti idriche sono vetuste e logore e non dappertutto il servizio è puntuale con frequenti interruzioni, a volte anche imbarazzanti. Con questo bando mettiamo a disposizione quelle risorse che i comuni hanno sempre chiesto e cercato. Ora devono dimostrare di saper intervenire, spiegano Ficara e Zito, devutato nel Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana. Purtroppo però alcune importanti province, come ad esempio quella di Siracusa, rischiano di non poter presentare alcun progetto e quindi in questa fase avere accesso ai fondi messi a disposizione dal governo. Ad oggi non è stato completato il previsto iter di riordino dei vari ambiti territoriali con l'individuazione di un gestore di un unico piano d'ambito provinciale. I sindaci seracusani riuniti in Assemblea territoriale idrica sanno da tempo della necessità di procedere con urgenza per non perdere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per questo tipo di intervento, affermano Ficara e Zito. Ho avuto l'assicurazione del Ministero che questo primo bando ne eseguerà un secondo. La provincia di Siracusa non può permetterci di perdere anche questo treno. L'ATI dovrebbe riunirsi a breve e mi auguro che i sindaci procedano senza ulteriori indugi. È vitale per non rischiare di rimanere fuori anche dalla seconda possibilità per ammodernare e rendere funzionali le reti idriche del siracusano. Non riuscirci per un insopportabile ritardo burocratico sarebbe un disastro per Siracusa e per tutta la provincia si sforza di sollecitare Paolo Ficara.